Ciao a tutti ragazzi, sono Tenevoli, sono qui per farvi vedere il giardino di casa mia d'Asiago, a tre pochi. Ecco qua, giardino di Asiago, non è grandissimo, però è immerso nel verde, veramente immerso nel verde. Di là non è mica mio, di là faccio vedere la mia parte, di là un altro appartamento, quindi eviterò di andare di là. Vedete che bello, mi sono andata a casa, mi riesco a girarmi così per farvi vedere. Qui scale per andare ad altri appartamenti, le scale, l'adrezza di telefono, la mia porta, il mio ingresso, questo qua è il nostro giardino. Vedete qualcosa? Io non vedo assolutamente nulla perché c'è il sole. In giardino poi farò uno spezzone anche dal balcone. Tutto verde. Che bello. Sto scendendo, spero. Sto filmando, sto filmando. Sì, ovviamente deve fare così, come tutte le mamme. L'erba è scivolosa perché ha piovuto. Ci sono su dei frutti? Cos'è? Nozzone. Qua c'è una pianta di nozzone, ragazzi. Qual è la pianta di nozzone? Tante di nozzone che abbiamo in giardino. Poi. Che è il buon altro a quel vuoto a chi? Sì, sì. E qui l'altro è aperto. No. Guarda il mio giardino. Mi spieghi presi al giardino. Bellissimo. Tanti sono anche dei pini. Pini, 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 pini. Ve li faccio vedere meglio. Guardate. Bellissimo. Quanti. E prima ce ne hanno di più, poi li hanno tagliati, cavolo. Però, veramente bellissimo. C'è, non ho parole. Non ho parole. Sacche. Sacche. Ora andiamo su. Andiamo su per farci vedere anche dal balcone. Qua c'è il balcone. Però vi faccio vedere anche dal balcone le ho riprese. C'è il balcone. Vedete qualcosa? Ok, ora sì. Arrivati a casa. E questo qui è il giardino visto dal balcone, raga. C'è la ringhiera. E io... Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Io praticamente vedo questo. Vedo questo. Vedete la ringhiera? Ma proprio perché vedo io. Poi i pini, come prima, c'è più in alto. Quindi si vedono ovviamente da più in alto. Bellissimo. C'è un altro balcone perché c'è un altro appartamento, come vi dicevo prima. E sì. Parlo anche in tour della mia casa. Gigi. Gigi, gigi, gigi. Biancheria allargata. E questo è quello che abbiamo visto prima dalla vicina. Guardate che bello. Il paesaggio. Vi lo avvicino un po'. Vedete? Mamma mia. Mamma mia. Adoro. Adoro tutto. Trattamente bellissima. Piante. Sacrario. E in mezzo alle piante non si vede molto. Madora, raga. Madora. Niente, raga. Io spero che vi sia piaciuto. Non sei così spolliciate. E al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.